non è un bellissimo scenario è quello che ho le spalle ancora la macchina di sera col buio però sono fuori e quindi il video lo faccio da qua non è un bellissimo scenario nemmeno quello che sta si sta dipingendo attorno alla juventus abbiamo già parlato questa mattina o questo primo pomeriggio di questa ultima intercettazione dell'avvocato gabasio con federico cherubini questo se salta fuori questa carta ci saltano alla gola perché poi non conviene fare causa dobbiamo poi se no eventualmente fare una transazione finta e comunque quella carta lì non è che sistemi del tutto i bilanci adesso questa carta su ronaldo sta diventando l'oggetto ovviamente del desiderio della procura l'oggetto del desiderio della curiosità chissà cosa c'è scritto su questa benedetta maledetta o semplicemente carta benedetta maledetta dipende ovviamente dai punti di vista non ci è dato di sapere certo è che è considerato un elemento molto importante ai fini dell'inchiesta si parla sempre ragazzi di inchiesta penale non di inchiesta sportiva ok la carta su ronaldo non ha nessuna valenza per quanto riguarda l'inchiesta sportiva è chiaro che dal punto di vista penale la posizione della juventus non è delle più felici diciamo così tanto per usare un eufemismo è altrettanto vero che bisogna aspettare la fine delle indagini e le conclusioni delle indagini per capire esattamente in quale quadro la juventus sarà costretta a muoversi per il futuro confrontandomi anche con altri colleghi tra l'altro ne ho parlato anche nel video che abbiamo registrato assieme a luca toselli oggi la trovate lo trovate sul suo canale diciamo che proprio la parte più preoccupante da un punto di vista è quella quella chiusura del comunicato in cui si parla di stabilità aziendale di continuità aziendale quella è una cosa che può preoccupare perché ragazzi detto in soldoni perché proprio si tratta di soldoni a questo punto se l'aumento di capitale non viene effettuato nei termini previsti è chiaro che è chiaro che la situazione si fa preoccupante e di conseguenza ne risentono e parecchio le casse naturalmente della società ne risente il piano di sviluppo della società ne risente anche la stessa dirigenza perché la juve dovrebbe essere costretta in caso di condanna di alcuni suoi dirigenti dovrebbe essere costretta a cambiare naturalmente la propria dirigenza e cambierebbe molto anche dal punto di vista dal punto di vista tecnico perché per esempio adesso sto prefigurando quello che lo scenario più estremo è un allenatore è l'espressione della dirigenza che lo ha chiamato è chiaro che se dovesse cambiare dirigenza magari non andrebbe bene la figura di allegri e la premessa che dovevo fare questa sera ma la faccio adesso più o meno a metà video mancano 28 giorni a gennaio di bala non ha ancora rinnovato il contratto e con più passano i giorni e con più si rafforza in me l'idea che di bala e il suo entourage vogliano aspettare di vedere quale sarà la situazione io voglio essere molto sincero e tranquillo con voi ve lo dico sinceramente secondo me qualora lo scenario dovesse cambiare drasticamente non mi stupirei se di bala decidesse di non seguire la juve nel proprio destino sono tutte supposizioni sia chiaro tutte supposizioni che io sto facendo in questo momento qua in macchina e nelle quali vediamo di approfondire un po il discorso tra poco perché adesso mi trasferisco nel mio solito ufficio cioè casa mia eccoci qua allora si sta meglio al caldo si ragiona anche meglio stavo dicendo che sono tutte supposizioni ma io voglio considerare tutte le ipotesi e quindi anche le più estreme le più estreme in una situazione di questo genere che non è una situazione assolutamente semplice anzi una situazione molto complicata anche dal punto di vista mentale la juventud dovrà essere molto brava adesso in queste prossime partite ad isolarsi completamente da quello che sta succedendo anche se non è facile isolarsi completamente ok poi dopo c'è il senso del dovere c'è il senso di appartenenza avete sentito le parole di chiellini quest'oggi sicuramente lui dà l'esempio dal capitano il ridare alla juve quello che la juve ti ha dato vuol dire vuol dire andare contro tutto e contro tutti per il bene della juventus sia chiaro ma così la pensa chiellini ma perché chiellini è una vita che è lì così dovrebbero pensarla tutti la penseranno tutti in questa maniera questo è l'altro grande interrogativo che esce adesso da questa situazione e tornando a paolo di bala la mia è stata una domanda che ritengo legittima la mia riflessione la ritengo legittima ma senza per questo attenzione voler pensare che di bala non è attaccato alla juve quindi può prendere la palla al balzo e andarsene fuori dalle scatole ecco sostanzialmente no non è per questo ragazzi è perché naturalmente poi uno un giocatore che arriva a 28 anni quindi nel momento in cui deve prendere forse la decisione più importante della sua carriera deve valutare tutto e il suo entourage il suo procuratore gli suggerisce di valutare tutto di valutare qualunque situazione possibile siamo sempre nel campo delle ipotesi quindi adesso non voglio assolutamente mettere di bala al centro di un discorso e mettere di bala lì per dire c'è il partito pro di bala il partito contro di bala ho scelto lui perché nella situazione più delicata quella del rinnovo di un contratto rinnovo di un contratto che lo farebbe diventare testimonial della juventus ok perché sono già è alla sesta stagione in bianco nero paolo di bala prolungando il contratto fino al 2026 voi mi insegnate che 6 più 5 fa 11 e quindi sarebbero 11 anni diventerebbe un'icona una bandiera un simbolo il nome di riferimento però è altrettanto vero che prima di prendere una decisione definitiva probabilmente probabilmente vuole vederci un pochino più chiaro in questa situazione ecco perché ho parlato di di mercato anche lì parlare di mercato adesso a 28 giorni dal primo di gennaio mi sembra in questa situazione un po difficile però permane questa volontà di 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 o comunque questa attenzione ai confronti di zaccaria adesso il nome nuovo che spunta in caso di cessione oltre a quello di ramsey e rabiot è quello di arthur e anche lì magari ci teniamo la riflessione un pochino più avanti perché ultimamente allegria aveva parlato molto bene di lui poi però non l'ha più fatto giocare titolare quindi o è successo qualche cosa o erano frasi di circostanza oppure non lo so è successo ripeto qualcosa che ha fatto cambiare idea al tecnico della juventus che formazione mi aspetto contro il genoa la conferma del 4231 perché in questo momento mi sembra decisamente lo schieramento più affidabile mi aspetto ancora luca pellegrini a sinistra dovrebbe recuperare decilio ma questo lo valuteremo domani in base alle parole di massimiliano allegri ma comunque dovrebbe tornare quantomeno disponibile decilio poiché sia in campo dall'inizio o meno è tutto da dimostrare e per il resto più o meno la squadra che si è vista contro la salernitana lo ripeto ancora una volta mi piacerebbe una bella mezz'oretta a Caio Giorgio mi piacerebbe molto e magari qualche minuto in più a Sule se verrà riconvocato attenzione perché l'inserimento di Sule in prima squadra potrebbe anche agganciarsi a certi discorsi stasera sono in pena di provocare provocare provochiamo vediamo cosa succede iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale seguitemi sui social ci vediamo domani sera essendo vigilia facciamo un video solo che riassume un po' tutto le parole di allegri la possibile informazione e eventuali nuovi sviluppi ciao 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 ciao